Questo paziente è stato operato per curare il piede equino cadente dopo una paralisi del nervo sciatico. La deambulazione è abbastanza corretta. Faccio oscillare le braccia normalmente. La deambulazione è abbastanza corretta e il piede non è più equino, non è più cadente. Facciamo quel test sulla sedia. Chiediamo al paziente di sollevare il ginocchio destro e il piede che era cadente paralitico addirittura si muove un pochino e anche questo è il piede sano e il piede sinistro. Molto bene, molto bene, grazie. Facciamo ancora qualche passo. La fisioterapia aiuta molto i pazienti in attesa dell'intervento ma è l'intervento chirurgico l'unica soluzione per aiutare il paziente a risolvere il suo problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.